Questa vittoria ci tenevo particolarmente perché questo mese è stato un mese difficile, è scomparsa la mia ragazza e mi sono aggrappato alla bicicletta per andare avanti perché non è stato facile e non lo è tuttora. Oggi ci tenevo particolarmente e sono contento di averle dedicato questa vittoria importante. Nicola sicuramente merito anche della tua famiglia, della squadra, di tutti quelli che ti sono stati vicino. Sì, la squadra, la mia famiglia, la famiglia della mia ragazza, veramente devo ringraziare tutti perché non sono cose facili, non è facile andare avanti, non è facile riprendere la vita di tutti i giorni, ho tenuto duro grazie a tante persone che mi sono state vicine e adesso fortunatamente sono riuscito a fare questa vittoria importante per lei. Nicola possiamo dire che il ciclismo ha avuto un ruolo in tutto questo? Sì, senza dubbio, la bicicletta mi ha aiutato tanto a sfogare il nervosismo e le difficoltà, mi sono aggrappato solo a quello e fortunatamente oggi è andato bene. Ancora 5, con lui Gampurini, Marconi, Berlato, Brosei, Ratto in discesa, Gampurini qualche metro, Lara Martin, il pass, il pass, il pass, il pass, il pass, il pass. Grazie. 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 Grazie.